ben a tutti ragazzi siamo qui in questo nuovo video con davide ciao ragazzi serie a la squadra palermo prepara una serie di amichevoli vabbè bando alle ciance guardate che squadra assurda perdere un beh andiamo a fare calcio e arriva lui proprio lui ragazzi comprato con 2 milioni più paloschi il mio avessimo 400 mila NICOLAAS LOPEZ pensando che ne va ne va ne va ne va ne va ne no noi incitiamo davide dopo anni dopo anni vabbè dai lo pezzo non lo farà rimpiangere ragazzi ritorno di fiamma di nuovo stevanovic arriva a palermo spazio a palermo dopo il prestito ottima stagione insieme di via varela dentro stevanovic con 3 milioni ragazzi quindi ottimo affatto è un altro giocatore andiamo a prendere ora due dici e un attaccante ragazzi arriva la partita quella assurda contro l'arsenal simuleremo e metteremo in campo i giocatori quelli nuovi quindi stevanovic che non era un pochettante nuovo è il grandissimo NICOLAAS LOPEZ che vedremo cosa combinerà oggi eh mettiamo mi hanno chiesto di giocare e li accontentiamo per una volta parco su un altro gioco e... vabbè dai ragazzi ci vediamo invece andremo a simulare la partita è stata questa formazione e la prenderemo in culo a sangue un'esperienza agonizzante ecco con un ritardo attenzione speriamo in bene speriamo in bene da te cosa è simulata da questa fatta di tutto il fondo che attenzione fareci i conti comunque ragazzi un palermo è... mamma mia un palermo che se la cava con l'arsenal lei vince con l'arsenal un palermo veramente che potrebbe anche puntare alla vittoria del campionato e della la champions league ragazzi beh ora continuiamo e vediamo se la trattativa per nacho fernandez è andata a buon fine o si è accettato è andata a buon fine quindi nacho fernandez è arrivato a palermo adesso abbiamo un'offerta per il trasferimento per bacino e già qua l'accetteremo 1200 passiamo a 1300 perfettino eh beh 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 buono no mchia buono era tantava 24 anni no faccio che c'era il fernandez un top beh adesso abbiamo la partita abbiamo anche due notifiche eh il puntino di campionato dell'europa league ha accettato ha accettato molti rumori porte siamo nella casa aspettata cadono cose cade tutto davide scrive questo rumore di penna tantissimo eh beh a posto andiamo a destraffare la farmacione e a stimolare questa partita ragazzi pensiamo che a fine mercato faremo il compagno non è detto perché sorpreso è per me ragazzi andiamo a giocare con tapperti la stanza aspettata le porte si chiudono e si apu che comori beh voglio giocare a capri ho un po' di turno ho un po' di turno e' chi è il più ricchezza chiate col botto è una minchia il nuremberg vince 2-0 vince 2-0 bayern doppia bayern campione dell'inter vuoi dire signori però lo penso non è segnato no forse si è una partita di giro il mio ingaggio qui ancora che c'è la caca segnato benziato comunque fermo ragazzi andiamo a simulare la terza partita contro l'offein cosa stai facendo non mettere direttante triangolo dobbiamo viverla la partita insieme la partita della vita laffer ti segnerà il gol lì ora e' in un momento manco su farà Torette Gabriel lui esce dai pali perché allora ho scontato Gabriel il gol Ramone Lopez la partita è più morta dei morti io ho perso signori io ho perso molto pippo mancosu mancosu sei mancosu sei soso mancosu vince 2-3 amichevoli su 3 2 amichevoli su 3 2 amichevoli in 3 è una peggiore è una peggiore buono abbiamo ricevuto 3 amichevoli ragazzi stiamo togliendo il nostro portiere titolare visto che erano 3 e tutti e 3 potevano meritare anche se Viviano non passa avanti eh però per arrivare a un buon difensore beh tante tante ma questo minci 80 milioni di stipendio vuol tattamila euro stipendio ragazzi ho comprato anche a scherzo per Viviano e' arriva quindi c'è appunto abbiamo preso scherzo per Viviano e quindi non avremo un portiere per avere un sacrificio che dobbiamo fare adesso faremo qualcosa ragazzi per il fatto che stiamo in calciomercato simuleremo anche la partita con Trapani anche se noi volevamo giocarlo stavamo di passare perchè voglio dire con Pettaglia non possiamo uscire ora beh dai affetti mi chiamiamo venuto già subito me lo voleva vendere eh ragazzi dobbiamo fare un sacrificio no l'abbiamo già fatto penso di fare il sacrificio penso di fare il sacrificio l'apperti l'apperti non lo venderemo e diciamo López il primo gol stagionale arriva proprio in Coppa Italia grande López va pronto c'è solo un capitano un capità LÓPEZ 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 che è che è che è che è forte López che è forte López che è forte López che è forte López ricordate ragazzi simuliamo anche la partita con la Lazio mi dispiace la prima di campionato però siamo ancora in fase di calciomercato ragazzi i ritmi poi stiamo per fare il colpaccio quindi ed è difficile farlo che poi scoprirete chi è ragazzi speriamo di vincere e rimarrete veramente a essere fatti comunque speriamo di vincere ragazzi contro la Lazio ma per la mia squadra vabbè 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 proviamo a lui anche i gol di Candrema prima imbarcata del Palermo pareto infortunio 4 a 0 della Lazio signore arriva anche il quinto bella bella le soldi ho inserito al Palermo andare a star zitto quando c'è lo falcone in serie B però bellissimo le soldi del Palermo che magari anche nella realtà andrà così e poi e un bel film al gioco della nooo 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 ragazzi ci rifaremo l'ho preso l'ho preso è ragazzi guardate la sua faccia questo sarebbe il colpaccio ragazzi voglio comprare Sterling abbiamo fatto la sua faccia ibrahimo insieme ragazzi guardate la sua faccia indica di di quanto abbiamo fatto ibrahimo ragazzi se questa video arriva ibrahimo ci viene a rompere il culo tanto gli abbiamo fatto no ragazzo 3.200 più che vale 1.900 comunque la signori quagliarella signori quagliarella signori ragazzi abbiamo fatto la seconda abbiamo la classifica il secondo ingaggio più costoso dopo al guerra adesso il tezzo più costoso dopo al guerra adesso il tezzo più costoso dopo al guerra 25.000 abbiamo pagato così tanto sì perché abbiamo fatto 12 milioni più un altro privato che valeva 10 milioni e chiena ehm 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 quagliarella quagliarella signori quagliarella ciao ehm bene siamo già ultimi perchè altrimenti la prima l'abbiamo persa 5.000 ci impazzere la la ecco la lazza infatti è il primo facendo 5 gol alle indo bellissimo andiamo fino alla partita e poi ci faccio vedere la rosa e poi concluderemo il video e poi ci ripartirà il nuovo campionato un'altra guardate ha pure il bellissimo si, abbiamo milioni di notifiche la relazione fine su Jonathan, su Boya, su Michael Martino, su Drago, su Palatubuccio ragazzi questi siamo tutti quelli che avevamo chiesto sono dato 203 milioni ero si droga vi faccio vedere la squadra che siamo riusciti a mettere su poi gli cambieremo i numeri abbiamo fatto tante scuffette Dario voto scuffetto forma pessima e ha preso 5 gol voto dai voto, no della partita benzerà, voto gi gi non ciò per prendere il San Croco gi 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 merdina va bene 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 va benissimo va bene va benissimo anche lui va benissimo guai eh guai abbiamo una bellissima squadra e non siamo forse riusciti, siamo riusciti a vendere tutti ragazzi siamo riusciti a vendere tutti quindi ci salutiamo qui beh, è stato un piacere alla prossima episodio, ciao